Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo appuntamento sempre su Resident Evil 2 Remake per quanto riguarda la versione per Playstation 4 Allora, punto critico dell'episodio precedente Avevamo battuto l'alligatore Avevamo incontrato la serima amica Annette di Ada Annette aveva sparato a Leon e adesso è in queste condizioni Cosciente ma non tanto Quindi siamo nei panni di Ada Avevo solo la pistola Brom HC Semi-automatica a doppia azione a 9 colpi Una sembra di una serie limitata di soli 5000 pezzi Quindi possiamo solo andare o da qui Ma credo che mi servirà luce No, non c'è niente Quindi andiamo dalla scala A questo punto Questa è una specie di rampino Rilevatore EMF Usa il rilevatore per individuare i cavi e prendere il controllo delle apparecchiature elettroniche Mira con L2 Interagisci Tieni in primo modo R2 mentre stai mirando Utilizzo infinito Wow Prendere il controllo in che senso Cioè così io non posso Così l'ho acceso Se lo spengo però puoi risalire no? No Forse serve acceso Ah ok Quindi ho il controllo anche dalla parte sopra Ok lo devo rompere Perfetto Allora qui mi ricordo che c'erano le sanguisughe E i ragni Già i primi insetti si vedono Ok Ok Ho il controllo di quello Mi allontano e faccio la stessa cosa qua Perfetto Zombie normale Vediamo Ispezione settembre Prima Settimana Ho già compilato una richiesta la scorsa settimana Ma ci serve subito un braccialetto identificativo di ricambio È indispensabile per accedere ad alcune aree della struttura In altre parole senza non possiamo fare il nostro lavoro Quindi non voglio sentire nessuno accusarci di perdere tempo Una pistola normalissima Qui non c'è niente Mi serve quindi sto bracciale Ok Qui presumo che Serva di nuovo il Ok Perfetto Sai Eda Questo mi farebbe comodo Forse Dall'altra parte 12 colpi 12 colpi Quindi o ci sono molti Zombie Questo va sotto Togliti Nel frattempo vedo se ci sono munizioni Non si sa mai Ok Forse 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 ce n'è solo uno che mi sta seguendo E' questo che si è svegliato adesso Ma Per me No Non lo posso saltare Ultimi nove colpi Ultimi nove colpi Di nuovo eh Ok E le stai cadute Quanto mi piacciono Sono bellissime Oh dai Ho finito i colpi Non posso più Farti niente Ok Ritorniamo nell'ascensore subito C'è Sento un Un guido strano Può essere impressionante Eccola La stronza Guarda come cammina Normale Adesso Ho sempre been good At running Annette I'll give you that Munizioni Mi servono munizioni Lo accendiamo ugualmente Non so cos'è Ma lo accendiamo ugualmente Di nuovo Cavolo Di nuovo qui sei No Ok Andiamo da questa parte No Cosa devo fare Mi colpirà Mi colpirà Lo so E dai Però mi ha Invincibile Sono invincibile Vai Corri Che cool Qua Entri ugualmente Certo E dai Però devo avere Sempre stanzia Di te Non mi colpire Non mi colpire Non mi colpire No Sta venendo da me Ok Facciamo il giro Vieni Passa subito Ok Allora In teoria Ce lo siamo tolti Non vedo Non vedo niente Non vedo niente Non vedo niente Area troppo grande Qui si potrebbe Qui si potrebbe salvare Qui si potrebbe salvare Corre Seconda settimana Seconda settimana Probabilmente Probabilmente sono Mucche di rifiuti Terminato questo rapporto Andrò a dare un'occhiata Io stesso Qui si potrebbe salvare un'occhiata Qui ci serve Bracciale Richiesta Identificazione Con bracciale Ok Io direi di andare Direttamente Dove si è aperta la porta Però prima Non lo so Mi vuoi dare qualche munizione Perché ho solo Dieci colpi Eccolo Qua c'è un Mister Raccoon Ok Sai Non so se Se ci ripasso Da qua O per questo Chissà quanti Ne avrò persi Che è sto coso Bracciale Bracciale Identificativo Ovviamente Obviamente Bravo Gonna burn you alive now You'll never get your filthy hands on the G I'm not the only one after it You realize that Then you won't die alone Ok Quindi è com'è Mi sta bruciando letteralmente Però io Devo fare arrivare L'energia da un'altra parte forse Vediamo Ok così ne chiudo uno Così dovrei fare l'altro E da qua dovrei poter chiudere No 9 secondi Non ce la faccio Non ce la faccio Giusto? Non ce la farò mai Non ce la faccio Un millesimo di secondo Un millesimo di secondo Ok Quindi Siamo vivi per miracolo Voglio esaminare il bracciale Un braccialetto che serve da chiave elettronica Attualmente monta un chip di livello ospite Quindi presumo che questo chip si possa anche togliere Livello 1 E appunto qui c'è scritto livello 1 Ok Your ID is authorized until October 1 Please return before this date Not gonna happen Ha Allora Vediamo Questa Questa me la ricordo Era una cosa solo da spostare Se è ricordo bene You don't cooperate I'll get a sample from the nest Over my dead body Oh shit Where's Leon when I need him? Ok Adesso dovremmo essere nei panni di Leon Non è che si dovrebbe essere risvegliato Ada? Dammit Ok, quindi dobbiamo trovare Ada, dove sei? C'è la sua giacca Ok Quindi rifacciamo lo stesso percorso, presumo No? Ah, questa è rotta L'ascensore funziona Cassa e Non mi serve a niente Ok Da questa parte Non mi sorprenderei che Se ci fossero E forse già vi sto vedendo I nemici, quelli che vi dicevo C'è un buon sentimento E' un buon sentimento Qui mi serve un'altra manopola La stessa che mi servirebbe per Ritornare da quello che so su Ci sono due strade Canale superiore Qui ci sono delle Delle scale Andiamo da qui dove Dove essere chiuso Presumo Infatti Proiettili Inizio a cartucce del fucilo Ora possiamo andare dall'altra parte Videocassetta USS Cos'è Una videocassetta Recuperata dal cadavere Un soldato Delle forze speciali Fino a quando sei tu Fino a quando siete così Non mi date problemi Trattamento facilitato E' chiuso Non mi sorprenderà che lui si rialzasse Spinotto Elettrico Sbaglio Infatti Questa era Forma della torre Degli scacchi La testa di questo Spionotto Ispirata dagli scacchi E' a forma di torre E si sta Alzando Ok Ho questa parte Chiuso anche Quindi lo rimettiamo Perché Altrimenti Non ho come passare Si apre Non si apre Neanche Coltello da combattimento Questa mi sembra Un'area Per dei nuovi nemici Perché letteralmente I Zombie normali Qui li vedo Molto difficili Cioè li vedo di più Vedo di più Uno zombie trasformato E non Gli zombie normali Quando quello Sta arrivando Qui si Dove Si scende Mappa Mi può aiutare? Qui mi serve di nuovo Un'altra manovella Che non ho Qualcosa Si è mosso Visto qualcosa Che si muoveva Non c'è niente Ok Oddio Che è sto coso Cosa Cazzo è No no Non mi dico Queste sono queste cose Piccole Mi fa Schifo Mi fa Mori per favore Mori da lontano Non lo so Non ti avvicinare a me Presumo che il pull do nebole Sia Sia la testa che esce Sembra se si può ammazzare Perfetto Che sono anche senza munizioni Ah che schifo Vabbè Salviamole Che si può saltare Come mi hai preso? Come mi hai preso? Non so cosa dovreste blocche Corri 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 Ok Le ho tirate abbastanza Anche di colpi Non ho fatto niente ugualmente Una funicolare Mai sentita la prova Funicolare Copia dell'email Al quartiere generale Dell'ombrella Direttore Owens Gli agli armi Stanno scatenando In tutto il nest Stanno scattando In tutto il nest Non so cosa stia succedendo Sento degli spari Non riesco a raggiungere Il responsabile Della mia sezione Siamo in trappola Abbiamo bisogno di aiuto E al più presto Direttore Owens La situazione qui è critica Il nest è stato Contaminato dal virus È incredibile Il sistema di emergenza Non si è nemmeno attivato E opere di esterni Non riesco a immaginare Chi possa essere stato Ma perché? Meier e Kilm sono morti Non riesco a smettere di tossire Perché non mi risponde? Direttore Owens E lei È sempre stato Le Ok Qui doveva Era Ada Che dovrebbe essere Caduta sulla destra Ragazzi Vi ringrazio per la visione Per il mio episodio Può essere tutto Ci vediamo Al prossimo episodio Sempre su questa serie Grazie